Ben ritrovati da Simone Nardone, un nuovo appuntamento con il giornale radiolocale. Raffica di denunce nel sud pontino per furti e truffe, i carabinieri di Scauri hanno individuato e denunciato una donna di 51 anni di latina, probabilmente coinvolta con il furto di una borsa a Minturno lo scorso aprile. La donna avrebbe prelevato con la carta di credito rubata 450 euro. A Minturno i militari hanno denunciato anche una donna di 47 anni della provincia di Napoli che avrebbe truffato una signora del posto spacciandosi per un'operatrice di poste, facendosi così accreditare la bellezza di 1670 euro. Infine, sempre i carabinieri, questa volta di Santi, Cosme e Damiano, hanno fatto scattare la denuncia per quattro persone coinvolte in un furto in un supermercato dello scorso agosto. Dopo le elezioni politiche inizia ad intravedersi la scadenza elettorale delle sentite elezioni regionali. A Itri in particolar modo c'è un nome forte dell'attuale giunta Gresti che rimbalza anche sui media locali come possibile candidatura. In parte a sorpresa parliamo dell'attuale assessore alla cultura del centro orunco, ovvero Salvatore Mazziotti. Malgrado il colore politico dell'amministrazione comunale di Itri sia oggettivamente orientato a destra, Mazziotti è da molti riconosciuto come indipendente di centro-sinistra anche in virtù delle sue conoscenze pregresse rispetto all'esperienza d'assessore e che lo vedono legato in particolar modo a Massimiliano Smeriglio, già vice di Zingaretti in regione. Per lui si parla proprio di una possibile candidatura da indipendente nelle liste del PD. Il Parco della Riviera di Ulisse ha dichiarato definitivamente guerra agli incendi boschivi e in particolar modo alla propria natura legata alla presenza dell'uomo e anche alla minaccia dolosa. Da qualche giorno operativo il sistema di telerilevamento intelligente degli incendi installato a Gianola. Questo nuovo sistema sarà in grado di rilevare minacce di innesco o fuochi fino addirittura a Monte Orlando. In questo modo verrà scovato per tempo i luoghi che saranno interessati dalle fiamme e sarà dunque più facile intervenire in modo che questi incendi non si sviluppino diventando un problema per le case o per le persone del territorio, oltre a mettere a rischio le zone più belle del comprensorio. Nei giorni scorsi da Gaeta è salpata la barca a vela Fra Diavolo a bordo della quale c'è il suo armatore Vincenzo Addessi che è partito con l'intento di compiere il giro del mondo. In questi giorni l'imbarcazione che issa anche il vessillo del comune di Itri con Addessi a bordo è impegnata con delle tappe di avvicinamento che la porteranno fino alle Canarie e poi a Capoverde e ancora circunnavigare l'Africa per dirigersi verso Città del Capo. Un'avventura che dovrebbe tenere impegnato l'equipaggio per oltre un anno in giro per i mari di tutto il mondo toccando tutti e cinque i continenti. Il Centro Coni di Formia ospita i campioni italiani del futuro dell'atletica leggera. Dal 30 ottobre al 2 novembre al Centro di Preparazione Olimpica Bruno Zauli si ritroveranno 65 specialisti di velocità, ostacoli, salti e prove multiple mentre un altro gruppo legato al mezzofondo si ritroverà a Tirrenia. Si tratta dei giovani nel Giro della Nazionale Italiana che iniziano a programmare la stagione in vista dell'importante appuntamento di quest'anno con gli europei under 20 in Romania previsti a luglio 2022. Questa era la nostra ultima notizia, un saluto da Simone Nardone a risentirci alla prossima edizione del giornale radiolocale.